I universiati non devono solamente significare un evento fine a se stesso, ma bensì un inizio. E questo chiaramente deve rimanere nella mente di tutti gli sportivi, di tutti i dirigenti, deve essere un inizio di un'attività continua e costante che vede la nostra città prima. Quest'evento, gli eventi che verranno per questa associazione sicuramente avranno una valenza maggiore se si considera che noi siamo una città di mare, quindi lo sport marino deve essere messo in prima in assoluto. Come funzionerà questa scuola? I dettagli tecnici ancora li dobbiamo apportare, però questa scuola funzionerà sia per i giovani sia per i meno giovani, perché per avvicinare i giovani allo sport del mare, quindi canoa, kayak, sap. E quindi chiaramente si considerano anche le persone meno giovani per poter sviluppare il loro tempo libero.